Lezione 1. Una giornata meravigliosa. Ciao Anna, che bella giornata stiamo passando, vero? Ciao John. Assolutamente. Il tempo è perfetto oggi. È così rinfrescante vedere il sole splendere e sentire la brezza fresca. Non potrei essere più d'accordo. Sono giorni come questi che mi fanno apprezzare la natura. A proposito di natura, hai fatto delle escursioni ultimamente? Sì, in realtà. Sto esplorando alcuni fantastici sentieri nelle vicinanze. Sembra fantastico. Qualche consiglio per un principiante come me? Beh, c'è un sentiero chiamato Green Valley. Non è troppo impegnativo e offre panorami mozzafiato. Sembra perfetto. Volevo passare più tempo all'aperto. È ottimo per il tuo benessere fisico e mentale. Assolutamente. Anch'io sto pensando di entrare in palestra. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Oh, andare in palestra è un modo fantastico per mantenersi in forma e conoscere nuove persone. Questo è vero. Mi servirebbe un po' di esercizio per mantenermi in salute e migliorare la mia resistenza. Sicuramente. Inoltre, è una grande opportunità per imparare nuovi esercizi e tecniche. Sono lieto che tu me ne abbia parlato. Non saprei da dove cominciare. Non c'è da preoccuparsi. La maggior parte delle palestre offre sessioni introduttive con istruttori per principianti. Questo è rassicurante. Immagino che ci proverò allora. Questo è lo spirito. Sono sicuro che ti piacerà e ne vedrai i vantaggi in pochissimo tempo. Grazie per l'incoraggiamento. Non vedo l'ora. Siete i benvenuti. Sono entusiasta per te. Sarà un viaggio meraviglioso. Lo credo anch'io. Apprezzo il tuo sostegno. In qualsiasi momento. Ci vediamo presto e potrai condividere le tue esperienze in palestra. Sicuramente. Ti terrò aggiornato. Grazie ancora. Lezione 2. Tendenze cromatiche interessanti. Ciao Anna. Hai notato qualche interessante tendenza cromatica ultimamente? Ciao John. Assolutamente. I colori audaci sono molto popolari in questo momento. Sembra interessante. Quali sono alcuni colori audaci popolari in questo momento? Bene. Le tonalità vivaci del rosso, come il rosso ciliegia e il cremisi, sono piuttosto popolari. Ah, capisco. Quei colori possono davvero fare una dichiarazione. Sicuramente. E anche le tonalità profonde del blu, come il blu marino e il blu reale, sono di moda. Mi è sempre piaciuta la ricchezza di quei colori. Sono così accattivanti. Sicuramente lo sono. E non dimentichiamo il verde smeraldo e il giallo brillante. Oh, adoro l'energia che portano quei colori. Possono davvero ravvivare una stanza. Assolutamente. Sono perfetti per aggiungere un tocco di colore a qualsiasi outfit o spazio. Parlando di moda, ci sono altre tendenze cromatiche audaci nell'abbigliamento? Bene. I colori neon sono tornati in auge. Il rosa fluo e il verde sono ovunque. I colori al neon possono essere piuttosto audaci e audaci. Sono difficili da non vedere. Questo è vero. Sicuramente non sono per i deboli di cuore. Posso immaginarlo. Anch'io preferisco i toni della terra. Sono ancora di moda? Assolutamente. I toni della terra come la terracotta, il giallo senape e il verde oliva sono senza tempo. Questo è buono a sapersi. Trovo che quei colori siano più versatili e rilassanti. Lo sono davvero. Possono creare un'atmosfera calda e accogliente. Posso capire perché sono così popolari. Hanno un effetto calmante. Sicuramente. Si tratta solo di trovare i colori che risuonano con te. Questo è vero. Ognuno ha il proprio stile e le proprie preferenze uniche. Assolutamente. La moda è un modo per esprimerci e mostrare la nostra individualità. Ben detto. È affascinante come i colori possano evocare emozioni diverse. Infatti. I colori hanno un forte impatto sul nostro umore e sulla nostra percezione. Sono contenta che abbiamo avuto questa conversazione. Ora mi sento più ispirata a esplorare i colori audaci. È bello sentirlo. Divertiti a sperimentare diverse tonalità. Grazie. Apprezzo le tue intuizioni e il tuo entusiasmo. Salve Anna. Hai trovato un comodo supermercato vicino a casa tua? Ciao John. Sì, per fortuna c'è un supermercato a pochi isolati di distanza. È fantastico. La comodità è sempre un vantaggio quando si tratta di fare la spesa. Assolutamente. Risparmia molto tempo e fatica. Di solito vado al supermercato vicino a casa mia. È conveniente. La comodità è fondamentale. Soprattutto quando hai un programma fitto di appuntamenti. Esattamente. È molto più facile prendere ciò di cui ho bisogno senza andare lontano. Capisco perfettamente. Il supermercato è ben fornito? Sì. Hanno un'ampia varietà di prodotti, dai prodotti freschi agli articoli per la casa. Questo è fantastico. È sempre bello avere tutto in un unico posto. Sicuramente rende gli acquisti più efficienti. Offrono servizi o sconti speciali? Sì. Hanno un programma fedeltà che offre sconti e offerte esclusive. È un ottimo modo per risparmiare denaro. Dovrai dare un'occhiata. Assolutamente. Vale la pena approfittare di questi vantaggi. Il supermercato è affollato per la maggior parte del tempo? Può essere affollato nelle ore di punta, ma cerco di andarci nelle ore più tranquille. È una strategia intelligente. Evitare la folla rende lo shopping più piacevole. Sicuramente. Preferisco un'esperienza di acquisto più rilassata e tranquilla. Il personale è cordiale e disponibile. Sì. Il personale è sempre pronto ad assistere e fornire tutte le informazioni necessarie. Questo è rassicurante. Un buon servizio clienti fa una grande differenza. Sicuramente sì. Rende l'esperienza complessiva più piacevole. Hai scoperto gemme nascoste o prodotti unici? Sì. Spesso introducono nuovi prodotti e specialità locali. Questo è eccitante. È bello esplorare nuovi gusti e opzioni. Assolutamente. Aggiunge varietà e mantiene le cose interessanti. Dovrò assolutamente dare un'occhiata a quel supermercato. Sembra fantastico. Sono sicuro che lo troverai comodo e divertente. Buon shopping! Lezione 4. Chiarezza delle attività Salve Anna. Chiariamo cosa è esattamente incluso nelle attività del nostro progetto. Ciao John. Assolutamente. Dobbiamo delineare i compiti per evitare confusione. Sono d'accordo. È importante avere una chiara comprensione di ciò che deve essere fatto. Sicuramente. Ci aiuta a rimanere organizzati e a lavorare in modo più efficiente. Quindi, iniziamo con il primo compito. Dobbiamo raccogliere dati di ricerca, giusto? Sì, è corretto. Dovremmo raccogliere informazioni pertinenti e analizzarle. Ottimo. E il secondo compito è creare un piano di progetto dettagliato. Ho ragione? Assolutamente. Abbiamo bisogno di un piano completo che ci guidi durante tutto il progetto. Questo ha senso. Un piano ben definito ci manterrà sulla buona strada. Esattamente. In terzo luogo, dobbiamo sviluppare un prototipo per il nuovo prodotto. Capito. Dovremmo progettare e costruire un modello funzionante. Sì, e una volta che il prototipo è pronto, possiamo passare al quarto compito. E qual è il quarto compito? Test e raccolta del feedback dei potenziali utenti. Ah, capisco. È fondamentale garantire che il prodotto soddisfi le loro esigenze. Assolutamente. Il loro feedback ci aiuterà a perfezionare e migliorare il prototipo. Questo è vero. E qual è il compito finale? L'ultimo compito è finalizzare la progettazione del prodotto e prepararsi per la produzione. Quindi, saremo pronti a portare il prodotto sul mercato. Precisamente. Dobbiamo assicurarci che tutto sia pronto per un lancio di successo. Ok, riassumiamo le attività, raccogliere dati di ricerca, creare un piano di progetto, sviluppare un prototipo, testare e raccogliere feedback e finalizzare il design del prodotto. Questo è un ottimo riassunto. Ci fornisce una chiara tabella di marcia da seguire. Infatti. Una volta delineati questi compiti, possiamo procedere con fiducia. Assolutamente. È importante avere un piano ben definito per un risultato positivo. Sono lieto che abbiamo chiarito i compiti. È sempre meglio essere sulla stessa pagina. Non potrei essere più d'accordo. La chiarezza e la comunicazione sono fondamentali. Grazie per aver affrontato questa situazione con me. Ti ringrazio per il tuo contributo. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Cominciamo con queste attività. Sicuramente. Sono entusiasta di vedere il nostro progetto concretizzarsi. Facciamolo. Assolutamente. Abbiamo questo. È ora di farlo accadere. Questo è lo spirito. Facciamo in modo che sia un successo. Buona fortuna. Ciao Anna. Hai mai pensato di creare un angolo di meditazione sereno nella tua casa? Ciao John. Sì, volevo creare uno spazio tranquillo per la meditazione. Meraviglioso. Avere un angolo dedicato può migliorare la pratica della meditazione. Assolutamente. Aiuta ad avere un ambiente calmo e tranquillo per concentrarsi e rilassarsi. Allora, hai deciso una location per il tuo angolo di meditazione? Sì, ho scelto un angolo tranquillo nel mio salotto vicino a una grande finestra. Sembra perfetto. La luce naturale può aggiungere un tocco rilassante allo spazio. Sicuramente. La luce solare ha un effetto positivo sull'umore e sul benessere generale. Hai pensato all'arredamento o a qualche elemento specifico per il tuo angolo? Sì, voglio mantenerlo semplice e minimalista con colori tenui e materiali naturali. È un'ottima scelta. Uno spazio ordinato favorisce un senso di tranquillità. Assolutamente. Ho anche intenzione di aggiungere alcune piante per portare un tocco di natura in casa. Le piante possono creare un'atmosfera rilassante e rinfrescante. È un'ottima idea. Grazie e credo che il contatto con la natura possa migliorare l'esperienza di meditazione. Sono d'accordo. La natura ha un modo per radicarci e promuovere un senso di pace. Hai mai provato la meditazione? Sì, ce l'ho. Trovo che mi aiuti a rilassarmi e a schiarirmi la mente dopo una lunga giornata. Meraviglioso. È un ottimo modo per ritrovare la calma interiore e ridurre lo stress. Infatti. Inoltre migliora la concentrazione e migliora la consapevolezza di sé. Assolutamente. I benefici della meditazione sono numerosi e ben documentati. Hai pensato di incorporare qualche tecnica di meditazione specifica? Sì. Sto praticando la meditazione consapevole. Mi aiuta a rimanere presente e centrato. La consapevolezza è una tecnica potente. Coltiva la consapevolezza e aumenta la chiarezza. Sicuramente. È una pratica che può essere integrata anche nella vita quotidiana. Questo è vero. Puoi portare la consapevolezza in attività come camminare o mangiare. Esattamente. Si tratta di essere pienamente presenti in ogni momento. Hai fissato un orario specifico per la tua pratica quotidiana di meditazione? Sì. Ho deciso di dedicare qualche minuto ogni mattina e sera alla meditazione. È un'ottima routine. La coerenza è fondamentale quando si tratta di meditazione. Sono d'accordo. Renderla un'abitudine aiuta a trarne tutti i benefici. Beh, sono entusiasta per te. Il tuo angolo di meditazione sembra adorabile. Grazie. Non vedo l'ora di provare la serenità che porta. Sono sicuro che sarà un rifugio pacifico per te. Buona meditazione. Lezione 6. Piani di viaggio accattivanti Ciao Anna. Stavo pensando alla nostra prossima avventura. Ci sono paesi in particolare che catturano il tuo interesse? Ciao John. È fantastico. Ho sempre voluto esplorare il sud-est asiatico. Il sud-est asiatico è una regione affascinante con culture diverse e paesaggi mozzafiato. Assolutamente. I templi in Cambogia e le bellissime spiagge della Thailandia sono sulla mia lista. Sembrano destinazioni incredibili. Non vedo l'ora. Anch'io. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo incontrati e ci siamo imbarcati in un'avventura di viaggio. Sicuramente. Viaggiare con gli amici crea ricordi indimenticabili. Hai preso in considerazione altri paesi o regioni? Sì, sono anche affascinato dalle vivaci città e dalle antiche rovine del Sud America. Il Sud America è uno scrigno di storia e meraviglie naturali. Assolutamente. Esplorare Machu Picchu in Peru e fare escursioni in Patagonia sono in cima alla mia lista. Sono destinazioni da sogno per molti viaggiatori. Capisco perché sei interessato. Sei mai stato in Europa? È un'altra regione affascinante da esplorare. Sì, ho avuto l'opportunità di visitare alcuni paesi in Europa. Meraviglioso. L'Europa è conosciuta per la sua ricca storia e le sue meraviglie architettoniche. Assolutamente. È difficile resistere al fascino di città come Parigi, Roma e Barcellona. Sono d'accordo ogni paese in Europa ha la sua cultura e le sue attrazioni uniche. Infatti. Sarebbe fantastico pianificare un viaggio ed esplorare ancora di più questo bellissimo continente. Dovremmo assolutamente prendere in considerazione l'Europa per i nostri viaggi futuri. Offre così tanta varietà. Assolutamente. Le possibilità sono infinite e c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Questo è il bello del viaggiare. Allarga i nostri orizzonti e apre le nostre menti. Non potrei essere più d'accordo. Conoscere culture diverse è davvero arricchente. Beh, i nostri piani di viaggio sembrano entusiasmanti. Non vedo l'ora di esplorare nuovi posti con te. Mi sento allo stesso modo. Sarà un'avventura incredibile. Cominciamo a ricercare e pianificare. Il mondo aspetta che lo esploriamo. Assolutamente. È tempo di soddisfare la nostra voglia di viaggiare e creare ricordi incredibili. Questo è lo spirito. Facciamo in modo che accada. L'avventura ti aspetta. Ciao Anna. Sognavo la nostra prossima avventura. Ci sono paesi in particolare che catturano il tuo interesse? Ciao John. Sembra incredibile. Sono sempre stato affascinato dalle vivaci culture dell'India. L'India è una terra ricca di tradizioni e paesaggi diversi. Sarebbe un'esperienza incredibile. Assolutamente. Il Taj Mahal, le affollate strade di Delhi e le tranquille distese del Kerala sono sulla mia lista. Sono scelte fantastiche. L'India offre un mosaico di immagini, suoni e sapori. Hai mai pensato di esplorare il continente africano? Sì, l'Africa è un luogo di pura bellezza e meraviglie della fauna selvatica. È sicuramente nella mia lista dei desideri di viaggio. Assolutamente. Le vaste savane del Kenya e della Tanzania e le maestose cascate Vittoria in Zimbabwe mi stanno chiamando. Sono destinazioni iconiche che offrono esperienze uniche e indimenticabili. Infatti, i diversi paesaggi e le vivaci culture dell'Africa la rendono una destinazione davvero affascinante. A proposito di fascino, hai mai pensato di visitare il Giappone? Il Giappone mi ha sempre affascinato con la sua miscela di antiche tradizioni e innovazioni moderne. Assolutamente. I fiori di ciliegio in primavera, i templi sereni e le affollate strade di Tokyo sono affascinanti. La cultura, l'arte e la cucina del Giappone sono così affascinanti. Esplorarlo sarebbe un sogno diventato realtà. Sono completamente d'accordo. Il Giappone offre una miscela armoniosa di tradizione e innovazione. Hai preso in considerazione altre regioni o paesi? Sì, sono anche attratto dalla bellezza aspra della Nuova Zelanda e dai meravigliosi paesaggi dell'Islanda. Sia la Nuova Zelanda che l'Islanda sono famose per le loro meraviglie naturali mozzafiato. Assolutamente. Dalle sorgenti geotermiche dell'Islanda ai maestosi fiordi della Nuova Zelanda, sono davvero affascinanti. È incredibile quante destinazioni affascinanti ci siano nel mondo. Infatti. Il mondo è pieno di meraviglie che aspettano di essere esplorate. Promettiamo di mantenere viva la nostra voglia di viaggiare e di continuare a cercare nuove avventure. Non potrei essere più d'accordo. Alimentiamo la nostra curiosità e abbracciamo l'ignoto. Assolutamente. La vita è troppo breve per stare in un posto. Usciamo ed esploriamo. Sono entusiasta per i nostri viaggi futuri. Creiamo ricordi che dureranno tutta la vita. Anch'io. Facciamo questo viaggio insieme e facciamo in modo che ogni momento conti. L'avventura ti aspetta. Facciamo in modo che accada. Il mondo è il nostro parco giochi. Assolutamente. Scateniamo la nostra voglia di viaggiare e creiamo una vita piena di esperienze straordinarie. Non avrei potuto dirlo meglio. Auspichiamo una vita ben fatta. Complimenti per quello. Intraprendiamo questo incredibile viaggio di esplorazione e scoperta. Saluti davvero. Trasformiamo i nostri sogni di viaggio in realtà, una destinazione alla volta. Non vedo l'ora. Andiamo là fuori e facciamo nostro il mondo. Assolutamente. Lasciamo il segno nel mondo e creiamo una vita di avventure. Lezione 8. Trifty Fines Ciao Anna. Sei mai stata in un negozio dell'usato prima? Ciao John. Sì, adoro esplorare i negozi dell'usato. Li puoi trovare delle fantastiche offerte. Sicuramente. I negozi dell'usato hanno spesso le migliori offerte su abbigliamento, mobili e persino libri. Sono d'accordo. È come andare a caccia di tesori. Non sai mai cosa potresti trovare. Questa è la parte eccitante. Hai trovato qualcosa di interessante durante la tua ultima visita? Oh, assolutamente. Mi sono imbattuta in un abito vintage in perfette condizioni. È fantastico. L'abbigliamento vintage può essere così unico ed elegante. Sì, e la parte migliore è che era a una frazione del prezzo originale. I negozi dell'usato sono ottimi per trovare articoli unici senza spendere una fortuna. Sicuramente. È un modo sostenibile per fare acquisti e allo stesso tempo sostenere enti di beneficenza locali. Questo è un altro grande aspetto dei negozi dell'usato. Hai trovato altro durante la tua visita? In realtà, ho trovato un bellissimo set di tazze da tè vintage a cui non ho potuto resistere. Le tazze da tè vintage sembrano deliziose. Aggiungono un tocco di eleganza a qualsiasi tiparti. Assolutamente. Non vedo l'ora di usarli e stupire i miei amici con un tè pomeridiano. Sembra una bella idea. I reperti nei negozi dell'usato possono aggiungere fascino alla vita di tutti i giorni. Certamente possono. È incredibile come si possano scoprire gemme nascoste con un po' di ricerca. Sono completamente d'accordo. È come trovare un pezzo di storia e dargli una nuova vita. È un modo meraviglioso per dirlo. I negozi dell'usato sono pieni di storie che aspettano di essere scoperte. Sicuramente lo sono. È sempre emozionante vedere quali tesori attendono di essere trovati. Assolutamente. È un ottimo promemoria che non è sempre necessario acquistarne di nuovi per trovare qualcosa di speciale. I negozi dell'usato offrono un mondo di possibilità. Non sai mai cosa potresti incontrare. Questo è il bello. È come intraprendere ogni volta un'avventura di shopping unica. Beh, mi ha ispirato a visitare presto un negozio dell'usato. Sono curioso di vedere cosa riesco a trovare. Sono felice di sentirlo. Sono sicuro che scoprirai degli oggetti fantastici durante il tuo viaggio nei negozi dell'usato. Grazie, non vedo l'ora. Chissà quali tesori ci attendono? Questo è lo spirito. Buon risparmio e che tu possa trovare delle offerte incredibili. Grazie, grazie alla gioia dei reperti parsimoniosi e delle storie che racchiudono. Complimenti per questo. Buona caccia e che le tue avventure nei negozi dell'usato siano piene di emozioni. Grazie, entriamo nel mondo dei negozi dell'usato e scopriamo insieme tesori nascosti. Assolutamente. Facciamo questo viaggio parsimonioso e rendiamo le nostre scoperte davvero speciali. Ne sono entusiasta. Facciamo in modo che il risparmio diventi parte della nostra esperienza di acquisto. Salve Anna, sto cercando la stazione ferroviaria più vicina. Puoi aiutarmi con le indicazioni stradali? Ciao. Certo, sarei felice di aiutarti. Dove ti trovi attualmente? Sono vicino al centro della città. Sai se c'è una stazione ferroviaria nelle vicinanze? Sì, c'è. La stazione ferroviaria più vicina è a soli due isolati da dove ti trovi. Questa è un'ottima notizia. Apprezzo il tuo aiuto. Puoi darmi qualche indicazione su come arrivarci? Certo. Per raggiungere la stazione ferroviaria, devi dirigerti verso est su Main Street. Cammina dritto per due isolati e vedrai la stazione sulla tua destra. Grazie per le chiare indicazioni. Mi dirigerò verso est su Main Street e terrò d'occhio la stazione alla mia destra. C'è altro che dovrei sapere? Sì, vale la pena ricordare che la stazione ferroviaria è piuttosto affollata nelle ore di punta, quindi preparati a potenziali folle. Inoltre, assicurati di avere il biglietto o la tariffa pronti prima di salire sul treno. Lo terrò a mente. Essere consapevoli dei periodi affollati mi aiuterà a pianificare di conseguenza. Inoltre, avere il mio biglietto pronto mi farà risparmiare tempo. Grazie per i suggerimenti. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a chiedere. Apprezzo la tua disponibilità ad aiutare. Lo terrò a mente. A proposito, ci sono monumenti vicino alla stazione ferroviaria che dovrei conoscere? Sì, ci sono alcuni punti di riferimento importanti nelle vicinanze. Dall'altra parte della strada rispetto alla stazione, troverai un grande parco, il luogo ideale per rilassarsi o fare una passeggiata. Questo è buono a sapersi. Il parco sembra un bel posto per rilassarsi dopo il mio viaggio in treno. Ne prenderò nota mentalmente. Grazie per l'informazione. Ciao Anna, ho un favore da chiederti. Puoi aiutarmi con qualcosa? Ciao John. Certo, sono qui per aiutarti. Per cosa hai bisogno di aiuto? Devo andare in centro città, ma non conosco la zona. Qualche suggerimento su come arrivarci? Certo. Ci sono alcune opzioni a seconda delle tue preferenze. Preferisci prendere i mezzi pubblici o guidare? Penso che prenderò i mezzi pubblici. È più comodo ed evita il fastidio di trovare parcheggio. Questa è una buona idea. Il centro della città è ben collegato con autobus e treni. Puoi controllare il sito web del trasporto locale per orari e percorsi. Questo è un ottimo suggerimento. Lo proverò stasera. Esiste una linea specifica di autobus o treno che porta direttamente al centro della città? Sì, ce ne sono diversi. L'autobus 23 e il treno della linea rossa vanno entrambi direttamente al centro della città. Perfetto. Ne prenderò nota. Quanto dura di solito il viaggio? Dipende dall'ora del giorno e dal traffico, ma in media ci vogliono circa 30 minuti. Non è poi così male. Pianificherò di conseguenza per assicurarmi di avere abbastanza tempo. Questa è una buona idea. È sempre meglio partire un po' prima per evitare ritardi imprevisti. Sicuramente. Non voglio arrivare in ritardo al mio appuntamento nel centro della città. Capisco perfettamente. C'è altro che devi sapere sul centro della città? In realtà sì. Ci sono buoni posti dove mangiare qualcosa da queste parti? Sicuramente. Il centro della città ha una varietà di ristoranti e caffè che soddisfano gusti diversi. È bello sentirlo. Qualche consiglio specifico per un pasto veloce e delizioso? Un posto popolare è The Corner Bistro. Servono deliziosi hamburger e hanno un'atmosfera accogliente. Sembra allettante. Mi assicurerò di dare un'occhiata. Qualche altro suggerimento sulle cose da fare nel centro della città? Assolutamente. Se hai del tempo libero, puoi visitare la galleria d'arte locale. Spesso hanno mostre interessanti. Sembra un ottimo modo per trascorrere del tempo libero. Lo aggiungerò alla mia lista. Meraviglioso. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo ad esplorare il centro della città. Grazie mille per l'aiuto. Lo apprezzo davvero. Siete i benvenuti. Sono sempre qui per aiutarti con tutto ciò di cui hai bisogno. È molto gentile da parte tua. Sono felice di avere qualcuno come te su cui contare per avere una guida. È un piacere per me. Non esitate a contattarci se avete altre domande in futuro. Lo farò sicuramente. Grazie ancora sei stato di grande aiuto. Nessun problema. Divertiti nel centro della città e goditi la giornata. Grazie e mi assicurerò di sfruttarlo al meglio. Abbi cura di te. Lezione 11. Esplorazione del sud-est asiatico. Ciao Anna. Sono tornata da poco da un viaggio nel sud-est asiatico. Ho esplorato la Thailandia, il Vietnam e la Cambogia e ogni paese aveva il suo fascino. Ciao John. Sembra un'avventura incredibile. Mi piacerebbe conoscere le tue esperienze in ogni paese. La Thailandia è stata la prima tappa del mio viaggio. Le affollate strade di Bangkok e gli splendidi templi come Water Room mi hanno lasciato a bocca aperta. Bangkok è nota per la sua vivace vita di strada e il ricco patrimonio culturale. Hai avuto la possibilità di provare la cucina tradizionale thailandese? Assolutamente. Mi sono concessa piatti deliziosi come Pad Thai, Green Curry e Mango Sticky Rice. I sapori erano incredibili. La cucina thailandese è famosa per il suo equilibrio di sapori. È fantastico che tu abbia potuto provare il gusto autentico della Thailandia. Dopo la Thailandia, ho viaggiato in Vietnam. La vivace città di Hanoi e i paesaggi mozzafiato della Baia di Along sono stati indimenticabili. La Baia di Along è nota per le sue isole calcare e le acque color smeraldo. Hai fatto una crociera in barca per esplorare la Baia? Sì, l'ho fatto. La crociera in barca mi ha permesso di ammirare da vicino la straordinaria bellezza naturale. È stata un'esperienza affascinante. Il Vietnam è famoso anche per il suo cibo di strada. Hai provato i famosi pho o ban mi vietnamiti? Assolutamente. Non ho potuto resistere a provare l'autentico pho e i deliziosi panini ben a mi. Erano pieni di sapore e incredibilmente soddisfacenti. È meraviglioso che tu abbia abbracciato la cucina locale. Il cibo vietnamita è famoso per la sua freschezza e i suoi sapori aromatici. Infine, ho visitato la Cambogia, dove ho esplorato le antiche rovine di Hong Kong Wat. L'architettura intricata era impressionante. Ankor Wat è un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO e uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Deve essere stata un'esperienza straordinaria. Lo era davvero. L'alba su Ankor Wat è stata uno spettacolo mozzafiato. Ho passato ore a esplorare i templi e a conoscere la loro storia. La Cambogia è nota anche per la sua calda ospitalità e la deliziosa cucina Khmer. Hai avuto la possibilità di provare qualche piatto locale? Sì, ho provato a Mak, un piatto tradizionale cambogiano a base di pesce o pollo in un profumato curry di cocco. Era assolutamente delizioso. Sembra che tu abbia fatto un viaggio incredibile nel sud-est asiatico, immergendoti nella cultura, nella storia e nella cucina di ogni paese. È stato il viaggio di una vita. Ogni paese aveva il suo fascino unico e sono grato per le esperienze che ho avuto. Sono felice di sentirlo. Viaggiare ci permette di ampliare i nostri orizzonti e apprezzare la bellezza delle diverse culture. Infatti, è stata un'esperienza arricchente che amerò per sempre. Non vedo l'ora di pianificare la mia prossima avventura. Sono entusiasta per te. Sono sicuro che la tua prossima avventura sarà altrettanto fantastica. Viaggia in sicurezza e goditi ogni momento. Grazie apprezzo le tue gentili parole. Mi assicurerò di condividere i miei racconti di viaggio quando tornerò. Fino ad allora, stammi bene. Abbi cura di te. Non vedo l'ora di sentire le tue storie. Divertiti a pianificare la tua prossima avventura. Lo farò. Grazie ancora. Ci vediamo presto. Lezione 12. Scelte di snack. Ciao Anna, hai già provato Super Chips? Li trovo piuttosto gustosi. Ciao. Sì, li ho già mangiati. Sono deliziosi e comodi quando hai bisogno di uno spuntino veloce. È bello sentirlo. A volte compro Super Chips in scatola per averle a portata di mano. Oh, è una buona idea. Gli snack in scatola possono essere molto utili, soprattutto per le attività all'aperto. Esattamente. Sono facili da imballare e non richiedono alcuna preparazione aggiuntiva. Quando si tratta di snack, di solito preferisco frutta fresca o barrette energetiche fatte in casa. Le barrette energetiche fatte in casa sembrano interessanti. Hai una ricetta preferita? Sì, ne preparo un lotto con avena, noci, frutta secca e un pizzico di miele per dolcezza. Sembra delizioso e salutare. Ci proverò qualche volta. Sono sicuro che ti piaceranno. È un ottimo modo per fare uno spuntino nutriente mentre sei in viaggio. A proposito di snack, che ne dite delle bevande? Comprate bevande specifiche? Di solito opto per acqua o tisana. Sono rinfrescanti e idratanti. L'acqua è sicuramente una buona scelta. È importante rimanere idratati per tutto il giorno. Assolutamente. A volte mi piace anche una tazza di tè verde o un succo appena spremuto. Il tè verde è noto per i suoi benefici per la salute. Lo aggiungerò alla mia lista della spesa. Questa è una buona idea. Il tè verde è ricco di antiossidanti e può aumentare il benessere generale. Sono sollevato di sapere che sono disponibili opzioni di snack e bevande più salutari. Sì, fare scelte consapevoli su ciò che consumiamo può avere un impatto positivo sulla nostra salute. Sicuramente. Si tratta solo di trovare un equilibrio tra gustare i nostri snack preferiti e nutrire il nostro corpo. Assolutamente. E esplorando diverse opzioni, possiamo scoprire nuovi sapori ed espandere il nostro palato. Sono contenta che abbiamo avuto questa conversazione. Mi ha dato delle ottime idee per spuntini più sani. Sono lieto di esserti stato utile. Ricorda che piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza nel nostro benessere generale. Grazie apprezzo le tue intuizioni. Ecco come fare scelte migliori per gli snack. Lezione 13. Suggerimenti per l'imballaggio. Ciao Anna. Ho sentito che presto partirai per un viaggio. Hai bisogno di consigli per l'imballaggio? Ciao. Sì. Sto programmando una vacanza alla prossima settimana. Avrei sicuramente bisogno di qualche consiglio per imballare in modo efficiente. Certo. Un consiglio è quello di fare una lista di imballaggio per assicurarti di non dimenticare nulla di importante. È un'ottima idea. Farò una lista per tenere traccia di tutto ciò che devo mettere in valigia. Un altro consiglio è quello di arrotolare i vestiti invece di piegarli. Risparmia spazio e aiuta a prevenire le rughe. Arrotolare i vestiti sembra una tecnica intelligente per risparmiare spazio. Ci proverò. Inoltre, considera la possibilità di confezionare capi di abbigliamento versatili che possono essere mescolati e abbinati per creare abiti diversi. Questo è un buon punto. Imballare pezzi versatili mi darà più opzioni mantenendo il mio bagaglio leggero. Non dimenticare di imballare gli articoli da toilette essenziali in contenitori da viaggio per rispettare le normative delle compagnie aeree. Giusto. Gli articoli da toilette da viaggio sono un must. Mi assicurerò di trasferire i miei prodotti per la cura della pelle in contenitori più piccoli. Un altro consiglio è quello di mettere in valigia un piccolo kit di pronto soccorso con cerotti, antidolorifici e tutti i farmaci necessari. Questa è una buona idea. È sempre meglio essere preparati per eventuali problemi di salute minori che potrebbero sorgere. E non dimenticare di mettere in valigia un adattatore universale se viaggi in un altro paese con prese elettriche diverse. Oh, hai ragione. Non vorrei finire con dispositivi guasti. Sicuramente metterò in valigia un adattatore universale. Buon punto. È sempre bello avere spazio per souvenir o qualsiasi altra cosa che potrei voler portare a casa. Assolutamente. Seguendo questi consigli per l'imballaggio, sarai ben preparato e organizzato per il tuo viaggio. Grazie mille per l'utile consiglio. Ora mi sento più sicuro dell'imballaggio. Siete i benvenuti. Ti auguro un viaggio fantastico e ti goda ogni momento della tua avventura. Lezione 14. Consigli di viaggio Ciao Anna. Ho sentito che hai viaggiato parecchio. Hai qualche consiglio per l'imballaggio? Ciao John. Assolutamente sì. Sarai felice di condividere con te alcuni consigli per l'imballaggio. Cosa vorresti sapere in particolare? Beh, sono sempre preoccupata di dover imballare troppo. Come riesci a fare le valigie in modo efficiente? Un approccio utile è quello di creare in anticipo una lista di imballaggio. Ti aiuta a rimanere organizzato e ti assicura di non dimenticare nulla di importante. È un'ottima idea. Questa volta farò sicuramente una lista. Qualche altro consiglio per evitare il sovraimballaggio? Un altro consiglio è quello di scegliere capi di abbigliamento versatili che puoi mescolare e abbinare. In questo modo, puoi creare più outfit con meno pezzi. Questo ha senso. Cercherò di mettere in valigia articoli che possono essere indossati in diverse combinazioni. Che mi dici delle scarpe? Occupano molto spazio. Le scarpe possono davvero essere ingombranti. Cerca di limitarti a poche paia adatte a diverse occasioni e condizioni meteorologiche. Buon punto. Mi limiterò a un paio di scarpe comode da passeggio e magari un'opzione più elegante. Qualche consiglio sul confezionamento degli articoli da tueletta? Anche gli articoli da tueletta possono occupare molto spazio. Prendi in considerazione l'utilizzo di contenitori da viaggio o l'investimento in bottiglie da viaggio riutilizzabili per ridurre al minimo la quantità di prodotto che porti con te. È un'idea intelligente. Cercherò articoli da tueletta in formato da viaggio o li trasferirò in contenitori più piccoli. Che mi dici dell'elettronica? Come li impacchettate? Mi assicurerò di imballare i miei dispositivi elettronici in custodie protettive. Qualche altro consiglio generale per viaggiare? Un consiglio importante è quello di mettere in valigia un adattatore da viaggio se ti recchi in un paese con prese elettriche diverse. Ti assicura di poter caricare i tuoi dispositivi. È un ottimo promemoria. Aggiungerò un adattatore da viaggio alla mia lista. Hai qualche consiglio per interagire con la gente del posto? È sempre utile imparare alcune frasi di base nella lingua locale. La gente del posto apprezza lo sforzo, anche se riesci a dire solo poche parole. Cercherò di imparare alcune frasi chiave. Può fare una grande differenza nel comunicare con la gente del posto. Che ne dite di dare una mancia al personale o ai tassisti? Le usanze relative alle mance variano a seconda del paese, quindi è una buona idea informarsi in anticipo sull'etichetta locale. In alcuni luoghi possono essere incluse delle mance, mentre in altri è consuetudine lasciare una mancia. Sicuramente darò un'occhiata alle usanze delle mance dei luoghi che visiterò. Grazie per la dritta. C'è altro che dovrei tenere a mente? Un ultimo consiglio è quello di avere una fotocopia dei tuoi documenti di viaggio importanti, come passaporto e visto. Può essere utile in caso di smarrimento o furto. È una precauzione intelligente. Farò delle copie dei miei documenti di viaggio e li terrò separati dagli originali. Grazie per tutti questi consigli utili. Siete i benvenuti. Sono lieto di esserti stato utile. Spero che questi consigli rendano i tuoi viaggi più piacevoli e privi di stress. Sono sicuro che lo faranno. Mi sento più preparato adesso. Grazie ancora. Apprezzo i tuoi preziosi consigli. Grazie per tutti. Nessun problema. È stato un piacere assisterti. Ti auguriamo un viaggio fantastico. Lo farò. Prenditi cura di te e ci vediamo quando torno. Ciao Anna. Ho cercato questo articolo online e il prezzo è di 47,50 dollari. Allora penso che possiamo metterci d'accordo. Ciao. Sembra un prezzo ragionevole. Tuttavia, credo che ci possa essere spazio per la negoziazione. Hai provato a contattare il venditore? No, non l'ho ancora fatto. Come mi suggeriresti di affrontare il processo di negoziazione? Quando si negozia, è essenziale essere educati e rispettosi. Puoi iniziare esprimendo il tuo interesse per l'articolo e poi chiedere se esiste la possibilità di un prezzo inferiore. Questo ha senso. È importante mantenere un tono positivo e mostrare un interesse genuino. Come posso giustificare la mia richiesta di un prezzo inferiore? Puoi indicare tutti i fattori che potrebbero supportare la tua richiesta, ad esempio la ricerca di un articolo simile a un prezzo inferiore o eventuali imperfezioni del prodotto che potrebbero giustificare uno sconto. Questo è un buon punto. Fornire validi motivi per un prezzo più basso può rafforzare la tua posizione negoziale. Cosa succede se il venditore si rifiuta di abbassare il prezzo? Se il venditore rifiuta la tua richiesta, puoi prendere in considerazione la possibilità di chiedere se sono disponibili sconti aggiuntivi o se può rinunciare alle commissioni associate per rendere il costo complessivo più accessibile. È una strategia intelligente. Esplorare modi alternativi per ridurre i costi complessivi può essere una situazione vantaggiosa per entrambe le parti. Cosa succede se il venditore accetta un prezzo inferiore? Se il venditore accetta un prezzo inferiore, è essenziale confermare per iscritto il nuovo prezzo e le eventuali condizioni modificate. Mi assicurerò di ottenere l'accordo per iscritto per garantire la chiarezza ed evitare potenziali problemi. Ci sono altri consigli di negoziazione che puoi condividere? Un altro consiglio è quello di essere pazienti e disposti a scendere a compromessi. La negoziazione è spesso un processo continuo, quindi è fondamentale essere aperti alla ricerca di una soluzione reciprocamente vantaggiosa. La pazienza e la flessibilità sono davvero importanti. Essendo aperti al compromesso, aumentiamo le possibilità di raggiungere un risultato soddisfacente. Grazie per il consiglio. Siete i benvenuti. La negoziazione può essere un'abilità preziosa da possedere. Ricorda, la pratica rende perfetti. Buona fortuna con la tua negoziazione e spero che tu ottenga un buon affare. Grazie, apprezzo il tuo supporto. Metterò in pratica i tuoi consigli e spero di ottenere un risultato favorevole. Ti farò sapere come va. Grazie. 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 Grazie.